La sicurezza sul lavoro in ogni situazione, ma particolarmente quando si utilizzano mezzi da cantiere, è di estrema importanza. Lo sanno bene i titolari di Niederstetter, nota ditta di vendita, noleggio e assistenza di macchinari per l'edilizia, che sabato 5 giugno hanno organizzato al Safety Park un corso di addestramento per il corretto utilizzo di mezzi Manitou, sollevatori di piattaforme, e Kramer, pale gommate. Guarda, le macchine oggi diventano sempre più complesse e la nuova tecnologia che permette di sfruttare la macchina al massimo vuol dire anche conoscere la macchina e per non andare oltre della sicurezza. Noi qua possiamo far vedere la macchina come lavora, in quali pericoli si comporta l'utilizzatore, per cui usare la macchina oggi come oggi è semplice, però ci vuole anche il suo rispetto dalla macchina. Un'iniziativa molto importante è quella di Niederstetter, dal momento che la possibilità di noleggiare tali macchinari va spesso a scapito della capacità di usarli in totale sicurezza. Prendiamo questa occasione di invitare più gente possibile, utilizzatori veri stessi, che siano sicuri a utilizzare queste macchine con la massima sicurezza, in modo che sappiano bene dove ci sono eventuali pericoli e cosa invece possono fare tranquillamente. Per cui riteniamo che un'organizzazione di questo genere in un ambiente bello come il Safety Park viene semplicemente sfruttato. Il corso, diviso in una parte teorica svoltasi nelle aule del Safety Park e una pratica all'aperto, è stato molto apprezzato dagli stessi partecipanti.